ciao a tutti eccoci qui, senti freddo già? sì c'è freddo e siamo ai primi di ottobre e dove siamo? a Palazzolo a Chiesa, ha visto che lo sai è bellissimo sì ma ti voglio dire cerca di portarti almeno un maglioncino per il 19 e il 20 ottobre cosa c'è? l'agrimontana a Palazzolo quest'anno il 19 e il 20 di ottobre ma lo sai che ti dico? io un anno l'ho fatta l'agrimontana e ricordo questa bella piazza piena 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 il borgo e i borghi, non vi dimenticate che vanno a vincere quest'anno perché questo paese merita solo il fresco che c'è temo che non lo freddo, allora il 19 e il 20 ottobre a Palazzolo a Chiesa ci saremo anche noi con e per l'agrimontana che la possono vedere dopo YouTube YouTube 4.0 ciao ciao grazie e scrivetevi non mi sputtate che abbiamo bisogno di voi ciao 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 ciao